Sì vabbè però che par sta candela bada. XBALANC, che già il nome è più o meno il suono di quando una porta sbatte all'improvviso, è il simpatico tizietto nato dalla congiunzione enigmatica di XQUICK, che non ha niente a vedere con il Nesquick, ricordiamo, e Ann Anapu, uomo trasformato in zucca bottiglia che beh non ha perso il vizietto, e XQUICK che paraciccia lei ci aveva sete e ha trovato solo una zucca bottiglia da bere. Insomma XBALANC e suo fratello Anapu, che XQUICK n'era proprio la più origina del circondario, erano fratellastri delle due scimmiette di cui abbiamo parlato l'altra volta. Il caro Anbaz è quello che nessuno si è mai cacato in vita, ANCHOEN. Sebbene fossero fratellastri e rappresentassero il tradimento di An Anapu nei confronti della moglie XBACQUIGLALO, quest'ultima, Poracrista, decide di accogliere XQUICK e di far giocare tutti e quattro i fratellini insieme. Brava Quiglialo, mi pare una cosa saggia, sì. Quindi abbiamo già detto nella scorsa puntata che i due fratellini scimmia diventano scimmia proprio grazie a XBALANC e Anapu, che si vendicano di tante brutte cose che gli erano state fatte e... facendoli salire su un albero e questi si trasformano in scimmie, vabbè. E insomma, quindi dopo aver fatto questa bella bravata, si incamminano verso il diventare eroi. In una serie di avventure che ricordano più la versione Disney di Hercules che la mitologia Maya, XBALANC e Anapu superano svariate case del Regno degli Inferi, che detta così perché... perché... perché sento nella mia testa la cantina dei Cavaliere dell'Occitico. Vabbè, eeeh... insomma, quindi l'Inferi di Maya e l'Oxbalba perdendo appositamente delle partite di calcio, o di pizze, che dir si voglia, per andarci. Eeeh... non è che si è capito proprio perché, eh? Forse per umiliare quelli dell'Oxibalba... non ho capigliato mica tanto, boh... forse per fare un po' più di drama. Fatto sta che dopo una partita di calcetto fatta con la testa di Anapu, che nel frattempo aveva perso... sì... staccata da un pipistrello... sì... no... eh... so che adesso pare un po' esagerato però, no, nell'ultima casa dove erano stati, dove l'avevano mandati i regnanti dell'Oxibalba, Anapu aveva perso la testa staccata da un pipistrello. Vabbè, eeeh... quindi Balanc decide di sostituire repentinamente la testa del fratello, con cui stavano giocando a calcetto, a 21 per la precisione, e se non ce l'avete presente è quel gioco dove devi fare gol con la palla al volo, con quella di una tartaruga, e nessuno se ne accorge... beh, vabbè, un bel complimento per il fratello, ma soprattutto la nascita di un prestigiatore da altri tempi... quindi insomma, i due eroi tuttavia, anche se hanno vinto la partita, vengono fatti a pezzi e tuffati in un fiume, dove rinascono come pesci gatto. E poi ridiventano ragazzini... mmmmmmmmmmm... Ehi tu, sei giù di corda? Non hai ancora il cervello completamente a puttane e ti stai annoiando? Prova Crack, il nuovo stimolante gioco dell'estate! Apri la bustina e dentro ci troverai tutto l'occorrente per scrivere qualsiasi mitologia tu vuoi! Eee anche per fare degli interessantissimi balli! Ecco qui il ballo dell'estate! Crack! Tutto quello che serve per scrivere una mitologia! Quindi insomma sì, Balanka e Anapu, con una roba che è un drama in 129 atti, ammazzano due regnanti dell'Oxibalba, tipo che erano sette, una cosa del genere, e dopo aver ammazzato sti due tizi fanno rinascere il padre. Sì, no, nel senso lo resuscitano. A quanto pare loro avevano questa capacità di far, cioè di rimettere insieme i pezzi della gente, no? Cioè tipo prima facevano a pezzi le cose con la gente e poi rimettevano a posto i pezzi. Sì, vabbè. Nessuno dica che poi quando hanno rimesso insieme il padre e stranamente il padre non funzionava bene, ripeto, nessuno gli dica che visti i risultati dei figli, forse al padre mancava qualcosa già da principio. Però vabbè, fatto sta che quando ritornano in superficie dall'aldilà, sti due fratelli decidono che, oh, sti cazzi della terra. Tanto non è che si aspetta nessuno che torniamo. Siamo stati solo per anni nell'aldilà e tutti pensavano fossimo morti. E invece siamo qua, che ci frega di diglielo. E quindi salgono fino al cielo, dopo essere saliti dall'oltretomba alla terra. E diventano uno Venere. E sì, Venere proprio. Cioè la stella. Però non è che loro sapevano che la stella era il pianeta, no? Quindi vabbè. E l'altro la luna piena. Solo quando è piena però, eh? che cercava giusto un passatempo, una volta al mese, una cosettina così. Insomma, tutti i giorni poi gli veniva pesante come il lavoro. E vabbè. Da questo realisticissimo racconto passiamo a parlare di Balank su Smite. Con una cerbottana lunga quanto tutto il suo busto e uno scudo. Perché è veramente tutto quello che uno vorrebbe in un gioco. Essere arciere, quindi tipo nessuno ti rompe il cazzo mentre spari. Avvelenare la gente e avere uno scudo per pararsi il culo. Insomma, con la capacità di fare a pezzi qualsiasi cosa, non abbia abbastanza velocità di movimento da fuggire in 2.8 secondi, peto secondi per la precisione, X Balank è, al momento della guida, uno degli hunter più devastanti di Smite. E vediamo subito perché. La passiva sembra leggermente insulta a una prima occhiata, ma non lo è quando pensate alle dinamiche in cui è usata. Per ogni nemico ucciso, X Balank guadagna permanentemente 5 di potenza fisica per un massimo di 6 cariche. Anche se il bonus totale è di soltanto 30 massimi di potenza fisica, dovete considerare nel momento in cui l'avete in lane o in un posto che non si arena, che ogni volta che vi uccide uno dei vostri compagni, questo avrà su di voi un vantaggio perenne di almeno 20 o 30 danni in più, qualsiasi cosa faccia. Che ora, se ce l'avete in squadra, magari non è tanto fico perché alla fine sembra niente, però se ce l'avete contro, specialmente in uno contro uno o in lane o in league o dove cazzo vi pare, fidatevi che quei 20 o 30 danni in più a botta si sentono e vi fanno smadonnare. La prima abilità è sicuramente ancora più ovviamente ambigua della sua passiva. Attivandola le bolas che di solito tira, X Balank, si dividono appena colpiscono qualcuno o qualcosa facendo il 30% di danno ai nemici nel raggio di 30 metri. Inoltre gli aumenta il danno inferto di base. Tuttavia consuma un po' di mana ad ogni colpo. Se la passiva vi sembrava un'abilità con alto rischio di inutilità, la prima non migliora. Al di là dell'aiutarvi nella pulizia di una wave di minion, a rischio di sprecare parte del mana, non avrete proprio molti vantaggi. Consideratelo lo sputo di medusa, l'abilità quella dove sputa, però applicata all'attacco base, ma senza la potenza dello sputo di medusa. La seconda abilità invece inizia a far venire fuori l'hunter estremamente vantaggioso che X Balank sparerà infatti la bellezza di 10 dardi avvelenati in un'area a cono di fronte a lui. Dardi da 110 danni più il 40% di potenza fisica, più fino a 90 danni e 20% di potenza fisica di avvelenamento, oltre che un rallentamento del 20% al poro Cristo colpito o ai poveri Cristi colpiti. Per chi sta già urlando allo screvo e il caffè no, tranquilli perché il nemico può essere colpito da un massimo di 3 dardi di cui solo il primo infligge danni completi e gli altri due solo un terzo del danno. Quindi al massimo stiamo parlando di 350 danni così a botta secca più il veleno. Che tra l'altro non si accumula. Ovviamente sì, è un'abilità forte, ma non così forte come potrebbe essere. La terza invece è un dash, 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 dash. Con dash più bianco non si può. Vabbè, che è stato a lungo creduto un salto, specie perché sapete com'è. Xbalanc mentre l'ha attivata e salta e prima di una patch grafica di qualche mese fa saltava in alto, quindi uno sai com'è, così al volo pensa che sia un salto. E invece no. Xbalanc si lancia in avanti e spara dardi ai nemici intorno un'area di 30 metri per 280 danni più il 20 per cento di potenza fisica, infliggendone fino a 336 più il 24 per cento di potenza fisica a chi è invece avvelenato. Una cosa che non so e non ho ancora ben capito è se basta che sia avvelenato, quindi anche con il veleno per dire di di Serket o di altra gente che avvelena o se effettivamente deve essere proprio il veleno di Balanc. C'è da testarlo e se lo sapete scrivetelo. Comunque la terza è quindi un'abilità molto sicura che vi permette di finire eventuali simpaticoni che scappano o ancora meglio di fare della ras semplice ed efficace. Abbiamo poi infine l'ultimate. Una di quelle ultimate che cominciano a sentire il peso dei nuovi dei, specie per chi non conosce alcune piccole chicche. Xbalanc fa infatti partire un contatore di 3 secondi appena vi attiva l'abilità per tutti gli dei sulla mappa. Oltre a coprirvi quasi tutta la visuale mentre è attiva, chiunque si stesse muovendo al momento della fine del tempo viene stunnato bellamente per un secondo e mezzo. Quindi state lì rincoglioniti per un secondo e mezzo perché vi siete mossi. Però se lo fate mezzo secondo prima di fermarvi e non muovervi allora siete a posto. Quello che però diventa interessante è che Xbalanc aumenta la distanza coperta dal suo attacco base e la sua velocità di movimento. Se finora ha soltanto un effetto figo e un bel boost a se stesso e quindi rappresenta sia un'ottima mossa di fuga che di entrata, pensate che questo gli permette anche di colpire le torri fuori dal raggio in cui di solito possono essere colpite. Considerate un eventuale late game di Xbalanc o di qualsiasi hunter che di solito in 3 secondi di colpi base significa che almeno metà vita della torre o fenice va in frantumi se non tutta. Inoltre è un ottimo controllo per situazioni disperate come un teamfight che sta andando male o un'entrata in combo con le ultimate di altri dei come Ade, Ares o altri dei con effetti che con ogni probabilità i vostri nemici vorranno togliersi dalle palle quindi probabilmente scappando, quindi probabilmente muovendosi, quindi probabilmente rimanendo stundati perché cercano di muoversi nel panico. Sì, sì, sì. Xbalanc gioca tantissimo sul panico, fidatevi, è bellissimo da giocare perché è una cosa psicologica proprio usare gli ultimate. Quindi, insomma, dopo le abilità ambigue, le abilità ambigue, certo, le abilità ambigue, la build di Xbalanc è sorprendentemente semplice. Ninja Tubby, The Wurr, The Wurr Gauntlet of Bloodforge, Executioner, Fatalis o Kinsais, a seconda di cosa avete contro, Deathbringer e l'immancabile Eichival. O in alternativa Rage se vi sentite di quell'umore. È estremamente semplice con scelte che ricadono più che altro sul modo in cui vorrete utilizzare Xbalanc, che non ci so tanti modi comunque. Se lo usate come un Hunter tipico potrete contare sul danno bonus della seconda e terza e del fatto che la prima vi permette di fare un danno in più sempre e a prescindere, danno a cui dovrete aggiungere sicuramente la Fatalis, come per ogni Hunter che va di attacco base, che si rispetti. E a cui quindi il Kinsais farà sicuramente bene. Se invece lo usate in maniera un po' più creativa, dunque aspettando la vostra Ultimate per assaltare qualcuno e tenendole Wave di Minion mentre respingete eventuali attacchi, quindi un po' più support che Hunter e basta. Allora potete tuffare via la Fatalis e concentrarvi sul Rage, addirittura pensando a uno Shifter Shield per un po' di danno in più alle abilità e un pochina di sopravvivenza in situazioni magari un po' particolari. Come ho detto, X-Balanca è al momento uno degli Hunter più versatili e forti di Smite insieme a Cupido, che si è ritrovato a essere un Hunter fortissimo, tipo inaspettatamente. E dunque è al momento estremamente facile dirvi che è un ottimo personaggio per chi ha appena iniziato. Tuttavia ricordate il concetto di High Skill Floor? Ne avevo parlato forse. È un concetto tipico dei picchiaduro e parzialmente dei MOBA, che indica quanto un personaggio sia difficile da iniziare ad usare e quanto sia difficile invece usarlo al massimo del potenziale. Ecco, X-Balanca è il classico caso di High Skill Floor, ovvero personaggio che è facile da imparare ad usare, ma difficile da usare al massimo del potenziale. Qualcuno direbbe da masterare, ok? Per esprimere il massimo del danno che puoi esprimere. Dopotutto è già difficile capire che cazzo gli passa per la capoccia a lui e il fratello, quindi ovviamente che potevi fa' se non fa lo strano pure nel gioco. Va, 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 guarda, 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 guarda. Che posso trispare adesso? Guarda, guarda. Sono qui solo per pulire le vostre stanze. Siete venuta qui solo per questo, piccola? Per le mie stanze. Non capisco assolutamente a che cosa stiate alludendo, signore. Sono solo una semplice cameriera argoniana. Infatti, fagottino mio, è piuttosto valida a quanto vedo, gambe forti e cura ben proporzionata. Vi fate sentire in imbarazzo, signore. Non temete, siete al sicuro qui con me. Devo finire le mie pulizie, signore. La padrona mi ucciderà se non lo faccio. Pulizie, eh? Ho qualcosa per voi. Ecco, lucidate la mia lancia. Ma è immensa, impiegherò tutta la notte. Avrete tutto il tempo, mia cara. Tutto il tempo che vorrete. Tutto il tempo che vorrete.